Sì, è un evento in cui crediamo molto. Con S.S.Trader condividiamo l'idea di diffondere la cultura finanziaria e creare un approccio consapevole agli investimenti. Ci descrivi le caratteristiche del simulatore trading? Sì, quest'oggi abbiamo portato il OneMarket Simulator proprio qui a Investing Roma. Come sessione di allenamento in vista dei prossimi tornei, il Toll Expo Contest si terrà dal 9 di ottobre con gara finale il 19 e cerimonia di premiazione proprio durante il Trading Online Expo di Borsa Italiana. Seguirà un ulteriore torneo, questa volta su ben 4 settimane, a partire dal 30 di ottobre a seguire le diverse sfide alle eliminatorie, l'8, 15 e gara finale il 22 di novembre con premiazione durante l'ITF di Milano. Quest'oggi abbiamo inoltre parlato di certificati sia a leva che di investimento, a caccia di rendimento e in particolare certificati della tipologia Top Bonus, Bonus Cap, Cash Collect, che consentono di andare a ottenere un premio alla scadenza a condizione che l'azione non abbia toccato il livello di barriera.